Musica Uccisa a coltellate e bruciata, la tragica fine di Nicoletta Indelicato, la ragazza di 25 anni scomparsa a Marsala la notte tra sabato e domenica. I carabinieri hanno eseguito due fermi. Bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Questo è il nostro servizio. Nicoletta è morta, l'hanno uccisa a coltellate dopo averla picchiata selvaggiamente. Poi hanno bruciato il cadavere che è stato rinvenuto ieri notte nelle campagne di Marsala. La tragica fine di Nicoletta Indelicato, 25 anni, scomparsa nella notte tra sabato e domenica scorsi. Dopo il ritrovamento del corpo incontrato a Santo Nofrio, i carabinieri hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura liribetana nei confronti di un uomo e di una donna, amica della vittima. Dei sinatari del provvedimento, Carmelo Bonetta, di 34 anni, maestro di balli caraibici, e Margareta Buffa, di 29 anni, segretaria, entrambi residenti a Marsala. I due, legati a quanto pare da una relazione, sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere. È stato l'uomo messo alle strette dagli investigatori a confessare il delitto. Sabato, Nicoletta era uscita con Margareta. Le telecamere di videosorveglianza di un noto locale marsalese le hanno riprese mentre erano insieme. Forse faccio tardi, aveva detto la ragazza al telefono ai genitori, prima di fare perdere le proprie tracce. Non vedendola rincasare, intorno alle 4, i familiari hanno provato a chiamarla al telefonino che però era staccato. Allarmati, domenica mattina hanno presentato denuncia di scomparsa. Nicoletta, probabilmente, era già morta. Dopo averla uccisa, i presunti assassini si sarebbero disfatti del corpo della 25enne, occultandolo nelle campagne marsalesi. Da qui, pertanto, il reato di soppressione di cadavere ha loro contestato assieme all'omicidio. Il momento del delitto sarebbe riconducibile a futili motivi. Appartenente ad una famiglia per bene, laureata in scienze della formazione e dell'educazione, Nicoletta era impegnata in un corso di formazione professionale. Il padre, Damiano Indelicato, è un professore di matematica. La madre, Rita Angileri, insegna all'Istituto Nautico di Trapani. Nicoletta era stata adottata assieme al fratello Christian, di due anni più piccolo di lei, quando aveva tre anni e mezzo. Nicoletta e Christian sono di origini rumene. Sabato sera, la 25enne, non voleva nemmeno uscire. Era già a letto quando è stata chiamata dalla sua amica. Una amicizia quella fra le due ragazze, entrambe adottate, contestata dai familiari della vittima, che consideravano Margareta una persona poco raccomandabile. Nicoletta però non aveva inteso che quel legame di amicizia era un legame pericoloso, continuando a frequentare la ragazza, ora in carcere, assieme al suo complice, che nel suo profilo Facebook si definisce un uomo che ama i valori della famiglia. Secondo a quanto ricostruito dai carabinieri, Buffa, dopo essersi intrattenuta con Indelicato, in un locale marsalese si sarebbe recata in auto con l'amica in campagna. Giunti in contrada Santonofrio, Bonetta, che fino a quel momento era nascosto nel portabagagli, avrebbe accoltellato la vittima e, dopo aver sosparso il cadavere di benzina, avrebbe appiccato il fuoco. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui, ci ritroviamo dopo la pubblicità. Una città sconvolta, rabbia e dolore a Marsala dopo il ritrovamento del cadavere di Nicoletta Indelicato. Tra compiacimento e polemica, la sezione trapanese dell'Ampi interviene sull'intestazione a Roma di un edificio della pulizia al partigiano Pietro Lungaro. Condannato Papania un anno per voto di scambio, questa la pena inflitta dal Tribunale di Trapani all'ex senatore alcamese la vicenda processuale ruotava attorno alle comunali del 2012. La guerra dei tassisti. Gli operatori ricini chiedono di poter lavorare anche a Trapani e sollecitano un protocollo d'intesa tra i comuni della Vetta e del capoluogo. E per lo sport, Menzana Siena fuori. La storica società toscana è stata esclusa dal campionato di A2 Ovest, ripercussioni ovviamente sulla classifica. A Derice non c'è più pace. Alcuni consiglieri comunali hanno ricevuto una lettera anonima che contiene accuse sessiste nei confronti della loro collega Simona Mannina nella missiva tirato in ballo anche Luigi Manuguerra e il servizio nel Tg Approfondimento. Rientriamo in studio ovviamente con la notizia del giorno, insomma, del ritrovamento del cadavere di Nicoletta Indelicato. Rabbia e dolore a Marsala sono questi sentimenti. Una città sconvolta per un delitto è ferato. Rabbia e dolore a Marsala dopo il ritrovamento del cadavere di Nicoletta Indelicato di 25 anni. La speranza di riabbracciare la giovane scomparsa nella notte tra sabato e domenica scorsi si è infranta in contrada a Santonofrio dove i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita sul quale verrà eseguita l'autopsia disposta dalla magistratura. Distrutti dal dolore, i familiari della vittima assistiti dall'avvocato Giacomo Franzitta si sono rinchiusi nel silenzio a parlare a nome della comunità marsalese e il sindaco Alberto Di Girolamo. Sono senza parole come lo siamo tutti. Tutti speravamo in qualcosa di diverso, insomma. Però è successo quello che non doveva succedere. Quindi io sono, come tutta l'amministrazione, come tutta la città, vicino alla famiglia e credo in questo momento per essere vicino è quello di parlare di meno, il silenzio assoluto perché sono cose che non dovrebbero assolutamente succedere ovunque, in nessun caso ma immagino il dolore dei familiari in questo momento per la morte e per la morte in questo modo e quindi vicinanza e familiare è una città complessivamente sana ma chi si è macchiato di questo delitto va non solo condannato deve scontrare la piena per tantissimi anni, forse non dovrebbero essere messe fuori dalla società civile. Grazie alle forze dell'ordine, grazie alla magistratura per il lavoro che hanno fatto e per essere riusciti così rapidamente a individuare gli eventuali responsabili o sembra addirittura il responsabile che mi sembra proprio da incredibile, insomma, proprio senza parole. Oggi ricorre il primo anniversario della morte del pompiere trapanese Giorgio Grammatico e deceduto in un'esplosione a Catania. Giorgio sarà ricordato in una messa che si terrà alle 17.30 nella chiesa di San Giuseppe a Erice Casasanta. Cambiamo argomento, aggressione e diffamazione a due vigili urbani di Erice la Corte d'Appello di Palermo ribalta la sentenza di primo grado l'animalista Enrico Rizzi assolto da tutte le accuse. I fatti risalgono a lontano 2013 quando l'animalista Enrico Rizzi chiese all'intervento della Polizia Municipale per un cane detenuto in pessime condizioni. Sul posto arrivò l'allora vicecomandante Salvatore Pirro e l'ispettore Carlo Oddo. Gli ufficiali di Polizia non condividevano il pensiero dell'animalista ed iniziò una forte discussione terminata con Enrico Rizzi al pronto soccorso ed una prognosi di oltre 20 giorni. I due appartenenti al comando della Polizia Municipale denunciarono Rizzi per diversi reati che portarono a punto Enrico Rizzi in giudizio. A luglio del 2017 lo stesso Tribunale di Trapani emise sentenza in danno dello stesso Rizzi condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione. Ieri i giudici della stessa Corte hanno condiviso pienamente il ricorso dello stesso legale. Rizzi è stato assolto da tutte le accuse, in particolare relativamente ai reati di minacce e violenza pubblico ufficiale perché il fatto non sussiste. La sezione trapanese dell'AMPI esprime compiacimento per l'intestazione avvenuta ieri a Roma di un edificio della Polizia di Stato a Pietro Lungaro. Noi non possiamo che essere felicissimi che finalmente, che finalmente, qualche d'uno in campo nazionale, spererei anche a Trapani, se ricordi della figura di Pietro Belindo Lungaro, che è un eroe, un nostro eroe, è uno dei tanti, ma lui significativamente importante, di quelli che hanno dato a questa nostra nazione la libertà e la democrazia. L'hanno fatto e ne siamo felici, ma permettimi di ricordare che noi da subito, da quando siamo nati, e cioè adesso sono un po' di anni, abbiamo subito scoperto, lo dico tra virgolette, la figura di Pietro Belindo Lungaro. A lui abbiamo dedicato una targa, ogni 25 aprile davanti a quella targa noi celebriamo il 25 aprile la festa della liberazione, che non è rituale perché a Trapani il 25 aprile non si festeggiava. Noi lo festeggiamo nel nome di Lungaro. La nostra sezione di Trapani è intitolata a lui. Io credo che se non fosse stato soprattutto per il libro di Andrea Castellano, un nostro dirigente, un giornalista abbastanza famoso, non devo sicuramente dirlo io, che ha scritto un bellissimo libro testimonianza su Carlo Lungaro, io credo che Lungaro sarebbe rimasto nel dimenticatoio. Ci permettiamo di dire che siamo stati noi dell'Ampi, Andrea Castellano soprattutto, noi dell'Ampi ad aver scoperto questo nostro eroe. era giusto quello che hanno fatto. Se proprio dobbiamo dirla tutta anche per una dimenticanza, ieri a Roma non erate fra gli invitati. Sì, questo ci addolora. Ci hanno detto che è stata una dimenticanza, ci hanno chiesto scusa, eccetera. Beh, diciamo che siamo stati amareggiati. Noi saremmo stati volentieri anche a Roma a ricordare insieme a loro la figura di Lungaro. Comunque noi siamo amareggiati, ma questo non significa nulla. Noi continueremo ogni 25 aprile, anche tra qualche settimana, saremo lì davanti a quella targa che noi dell'Ampi abbiamo messo a ricordare sempre, come faremo ogni anno, Pietro e Melindo Lungaro. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Condannato Papania a un anno per voto di scambio, questa la pena infilitta dal Tribunale di Trapani e l'ex senatore Alcamese, la vicenda processuale ruotava attorno alle comunali del 2012. La guerra dei tassisti, gli operatori ricini chiedono di poter lavorare anche a Trapani e sollecitano un protocollo di intesa tra i comuni della Vetta e del capoluogo. E per lo sport, menzana fuori. La storica società toscana è stata esclusa dal campionato di A2 Ovest e ripercussioni sulla classifica. L'ex senatore Nino Papania è stato condannato per voto di scambio. L'ex senatore Nino Papania è stato condannato a un anno per voto di scambio. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 2012 e sono relative alle consultazioni amministrative del Comune di Alcamo. Secondo i giudici, l'ex parlamentare avrebbe chiesto voti in cambio di soldi e posti di lavoro. Assieme all'esponente del PD, sono stati condannati a otto mesi di reclusione Leonardo Vicari, Giovanni Renda, Leonardo e Giuseppe De Blasi, rispettivamente padre e figlio. Anche loro sono stati riconosciuti come responsabili della compravendita di voti. Il processo era iniziato nell'ottobre 2014 e riguardava la fase del ballottaggio in cui erano contrapposti Sebastiano Bonventre e Niclo Solina, candidato della lista civica Alcamo Benecomune. Allo spoglio risultò vincitore Bonventre sostenuto da Bapania che, in un altro processo stralcio, era stato condannato in primo grado con il rito abbreviato a otto mesi di reclusione per concorso in voto di scambio, sempre in relazione alle comunali del 2012. Processo approdato in corte d'appello a Palermo. I tassisti ricini scendono in campo e chiedono un protocollo di intesa tra i comuni della Vetta e del capoluogo. La guerra dei taxi fra operatori trapanesi e dericini va avanti da tempo. Gli operatori della Vetta da anni lamentano tutta una serie di limitazioni che di fatto li penalizzerebbero. Non possono sostare al porto, all'aeroporto, così rimangono in attesa di qualche cliente di fronte alla funivia. Per loro, infatti, vige l'obbligo di operare nel territorio del comune di Erice. Questa è una situazione che ci porta ad avere sempre contrasti con i nostri colleghi pure di Trapani, che comunque noi quando andiamo da Erice portiamo i turisti a Trapani e magari c'è un turista che ha bisogno del nostro servizio, non possiamo fermarci e dare questa utenza ai clienti. E quindi mi sembra una cosa sbagliata sia per i clienti che anche per noi, diciamo, che facciamo questo lavoro. Una situazione traeggi comica se pensiamo ai confini tra i due comuni è che incide sulle tasche dei clienti. Passando il confine di Cino, infatti, la tariffa aumenta. E spesso bastano pochi metri per ritrovarsi nel territorio di Trapani, in certi casi solo attraversando la strada. Essendo che il territorio si intreccia tra di loro, in poche parole noi siamo uniti di un autotassametro e abbiamo dei codici da andare a inserire nel tassametro. Se da un comune passiamo subito dopo all'altro comune e dovremmo andare a toccare dei tasti sul tassametro come K1, esterebbe urbano, K2, esterurbano. Di conseguenza l'utente che guarda che noi giochiamo sul tassametro potrebbe pure pensare male perché giustamente possiamo aumentare le tariffe. Tutto ciò questo non viene fatto perché né da parte dei nostri colleghi di Trapani né da parte dei tassisti di Erice. I tassisti ricini chiedono dunque ai sindaci di Trapani ed Erice di trovare un accordo, un protocollo che permetta a tutti gli operatori del settore di lavorare con le stesse condizioni. Spero che i due comuni trovino un buon accordo per cercare di dare il meglio a questi turisti che arrivano a Trapani che purtroppo si trovano disagiati trovando un taxi di Trapani e un taxi di Erice. Penso che sia un problema molto serio. Cari sindaci aiutateci a dare questa possibilità anche a noi di usufruire di questo poco lavoro che arriva a Trapani sia con le navi da crociera sia con l'aeroporto. Festeggiato domenica la Rosmini il terzo anniversario della fondazione del gruppo di sbandieratori Real Trinacri alla cerimonia a cui ha fatto seguito un'esibizione sono intervenuti il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l'assessore del comune di Erice De Vincenzi. Gli sbandieratori trapanesi sono ormai conosciuti in tutta l'isola lo scorso anno a Castelbuono hanno vinto il terzo premio del concorso regionale dei musici e sbandieratori Trofeo Palermo Capitale della Cultura 2018. E con l'ingresso della processione nella chiesa di Maria Santissima delle Grazie ieri sera a Marettimo si sono conclusi i festeggiamenti in onore di San Giuseppe. Riti antichi tra fede e tradizione che sono scritti nel Dianame di Maro che ogni anno rivivono in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe ricorrenza davvero molto sentita nella comunità della più lontana dell'Egali. Ieri mattina in piazza si sono tenute le alloggiate la rievocazione storica della mancata accoglienza alla Sacra Famiglia con San Giuseppe la Madonna e Gesù Bambino che vengono rappresentati da tre persone del posto. Per due volte bussano nel portone della chiesa che viene sbattuta in senso di niego con un ungepposto. Alla terza tupuliata il portone si spalanca con la Sacra Famiglia che viene accolta con lo scampaniero. La Sacra Famiglia quindi si sposta sul grande palco allestito in piazza addobbato con la mortiglia un'erba che cresce nell'isola. Qui si tiene il rito della mità dai Santi con i tre che vengono imboccati con delle pietanze preparate dalle donne dell'isola. In piazza si tiene intanto la devozione ovvero la distribuzione di dolpi tipici a partire dallo schigione di San Giuseppe e dal pignolo anche questo preparato magistralmente dalle donne marettimare. le celebrazioni religiose in piazza si sono aperte con la messa celebrata dal vescovo Pietro Maria Fragnelli che si è soffermato sull'importanza di questa ricorrenza parlando anche di festa del papà e alla fine ricordando l'archeologo Sebastiano Tusa scomparso di recente nello schianto aereo in Etiopia. Sebastiano Tusa mi sembra quasi un cittadino onorario oime ad mortem post mortem di questa realtà che lui ha fatto conoscere in tutto il mondo con la sua passione per l'archeologia marina per gli studi universitari credo che nel tempo scopriremo ancora di più il debito di gratitudine che abbiamo nei suoi confronti perciò sia ieri che stamattina ho voluto pagare questo debito dell'intelligenza e del cuore verso di lui augurandomi che come ho detto per Trapani e anche per Marettimo egli ci aiuti ad essere un po' meno provinciali ci aiuti cioè a respirare i nostri valori con il ritmo e la bellezza dei valori universali che egli ha sottolineato anche da Cristiano con la moglie ogni domenica era in cattedrale a Palermo durante le celebrazioni in piazza oltre che Sebastiano Tusa è stato anche ricordato il presidente del comitato dei festeggiamenti di San Giuseppe Cosimo Civita scomparso di recente un'assenza che quest'anno a Marettimo si è fatta sentire come evidenziato dal vescovo Fragnelli e dal sindaco Peppe Pagoto che nel pomeriggio prima dell'inizio della processione ha rinnovato la tradizione della consegna delle chiavi del comune a San Giuseppe anche il primo cittadino ha ricordato Tusa oltre che Cosimo Civita ricordo due personaggi che hanno fatto molto per le isole di Sebastiano Tusa è un cittadino orario di Favignana delle isole di Cosimo Civita è un amico una persona che ha dato tantissimo a Marettimo che era il presidente del comitato dei festeggiamenti quindi era un saluto un ringraziamento e un pensiero a lui e alla sua famiglia che lo piange un'intera comunità quest'anno è un anno difficile di passaggio abbiamo cercato di svolgere la festa nel miglior modo possibile e nel rispetto di chi non c'era più a cui abbiamo dedicato la festa stessa sia per i Marettimari che erano qua che per i tantissimi Marettimari che ci seguono anche da fuori Italia e dal mondo ci hanno confortato le parole del Vescovo e la presenza del Vescovo oggi a Marettimo una volta uscite le due statue di San Giuseppe e San Francesco di Paola quest'ultimo il protettore di chi va per mare quindi un santo molto sentito nella comunità Marettimara da sempre pescatori naviganti hanno percorso le strade del centro abitato dell'isola accompagnati dalle note della banda di Famignana e fermandosi praticamente davanti ogni casa per permettere le donazioni fatte sul sissacolo una fascia dove vengono appese le banconote attraverso una spilla da quest'anno è stata anche posizionata una cassetta di legno dove i fedeli hanno potuto mettere delle booster con un pensiero e una offerta e alla fine sono stati raccolti quasi 9.000 euro che serviranno a finanziare i lavori di restauro del campetto di calcio dell'asilo come fatto sapere dal sindaco Pagoto e dal parroco padre Bruno prima del rientro delle due icone religiose nella piccola chiesa di Santa Maria delle Grazie un momento carico di fede salutato da una stupenda luna quasi piena che ha illuminato il cielo di Marettimo in quello che è il momento più importante per la comunità dell'isola grande partecipazione ieri sera durante la benedizione dell'altare di San Giuseppe nel quartiere di Villa Rosina per il secondo anno consecutivo i componenti dell'associazione Insieme per Villa Rosina hanno realizzato il tradizionale altare in via Fedro all'angolo con via Medea l'intento è quello di non perdere le nostre tradizioni scrive il consiglio direttivo nel comunicato stampa di far appassionare i nostri ragazzi di far rivivere negli animi il sentimento di gratitudine a cui questo evento nelle sue radici popolari si ispira la novità di quest'anno è rappresentata dall'immito che si svolgerà sabato prossimo da oggi ogni giorno dalle 15 alle 19 sarà possibile visitare l'altare sabato 23 invece alle 15 riviverà il tradizionale ammito oggi invece alle 18 all'accademia Candischi sarà presentato il testo edito dalla Marp per la collana Sipgi io quella pecora nera sulla ferita abbandonica per chi la vive per chi la cura saranno presenti le autrici la professoressa Valeria Iacono e la dottoressa Elena Gigante che dialogheranno con la dottoressa Fabrizia Sala sul tema dell'adozione come primo atto terapeutico da sostenere per non divenire anch'esso fallimentare sarà presente l'illustratrice del libro la professoressa Francesca Scalizzi Alvia domani il primo ciclo di disinfestazione ambientale sul territorio ricino da domani 21 marzo e anche per la giornata successiva del 22 marzo a partire dalle ore 7 in tutto il territorio comunale di Erice verrà effettuato il primo servizio di disinfestazione larvicida antizanzare ed altri insetti infestanti i servizi di disinfestazione larvicida serviranno a prevenire la riproduzione delle zanzare e altri insetti infestanti adulti vettore di malattie l'erogazione del prodotto sarà mirata e concentrata nei tombini secondo le prescrizioni sanitarie ma anche in tutti i canali dove scorre l'acqua e l'amministrazione rende noto altresì che sono in atto interventi sul verde pubblico su tutto il territorio comunale di Erice eventuali zone del territorio comunale che presentano particolari esigenze di intervento immediato potranno essere segnalate telefonicamente dagli interessati contattando l'ufficio igiene e sanità del comune di Erice al numero telefonico 0923 502262 0923 502261 o attraverso l'applicazione Municipium adesso invece spazio le previsioni del tempo Nel pomeriggio di oggi è prevista pioggia con temperature comprese tra i 12 e i 14 gradi venti moderati provenienti da nord-est il mare sarà mosso in serata previste ancora piogge i venti continueranno a soffiare da nord-est per domani mattina previste piogge con venti moderati provenienti da nord-est le temperature minime saranno attorno ai 13 gradi sui 15 le massime il mare sarà mosso gli eventi continueranno a soffiare da nord-est adesso invece gli appuntamenti di questa sera alle 20 e 30 di replica alle 23 andrà in onda una nuova puntata di Agorà dedicata all'ex assessore regionale Sebastiano Tusa ospiti di Wolli Camareri Luigi Biondo direttore del Polo Museale Rossella Giglio direttrice del Parco archeologico di Segesta il professore Francesco Torre e in collegamento telefonico Vittorio Sgarbi Saverio Catania invece il protagonista di Graffiti in onda questa sera alle 21 e 30 a mezzanotte e 30 Catania dal 1960 al 75 stato consigliere comunale della democrazia cristiana sindaco di Trapani dal 68 al 71 e consigliere provinciale dal 76 al 94 adesso andiamo in pausa e poi torniamo con lo sport eccoci con lo sport apriamo col basket di ieri pomeriggio la notizia dell'esclusione dal campionato di A2 Ovest della Menzana Siena una storica società che lascia quindi questo campionato ovviamente la classifica è cambiata perché insomma sono state tolti alcuni punti alle squadre e Trapani ne beneficia un po' perché ad esempio contro una diretta concorrente di Scafati contro cui giocherà domenica guadagna due punti in più ed erano invece a pari merito Cassino evita la retrocessione diretta con i suoi suoli quattro punti in classifica e la Virtus Roma si riprende la vetta con i suoi 34 punti adesso invece passiamo al calcio ripresa degli allenamenti oggi pomeriggio verso però si va verso il turno di riposo e poi la gara di Coppa Italia torniamo alla sconfitta contro la Virtus Franca Villa ed ascoltiamo le parole sincere di Francesco Corapi non abbiamo approfittato siamo rammaricati di questo purtroppo dobbiamo dobbiamo andare avanti perché comunque ci sono ancora delle partite da giocare tenteremo fino alla fine di di provarci perché comunque dobbiamo trovare dentro noi stessi la motivazione per continuare a sperare no 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 assolutamente nessun alibi perché il campo era impraticabile come lo è stata Bisceglie però non abbiamo avuto la maturità di cambiare il nostro atteggiamento il nostro tipo il nostro modo di giocare perché in questo campo è difficile fare tutto quello che fai magari in casa cioè giocare sempre palla a terra come hanno fatto loro la guerra perché se noi andiamo a vedere loro una palla giocata a terra non l'hanno mai giocata quindi noi dovevamo fare altrettanto non è un demerito loro anzi loro hanno sfruttato questo fattore campo che noi non abbiamo assolutamente capito e di conseguenza raccogliamo questa sconfitta e ripartiamo ripeto dovevamo semplicemente avere la maturità di cambiare il nostro modo di giocare e di interpretare le partite a mio riguardo e poi mi sbaglierò perché abbiamo una mentalità totalmente diversa una mentalità magari che non è per la Serie C però la Serie C è anche questo campo non è solo il nostro campo il nostro sintetico quindi noi abbiamo proprio come mentalità il fatto di giocare sempre palla a terra di tentare sempre le nostre giocate oggi obiettivamente non si poteva fare questo e dovevamo capirlo in fretta non l'abbiamo capito e siamo qui a parlare di un 4-1 e di una grande figura di merda a mio riguardo vabbè ma non non c'è bisogno della partita per capire che non siamo questi l'abbiamo dimostrato tutto l'anno certo arrivare a Francavilla dopo l'anno scorso che ci siamo arrivati a meno due e lasciarci di nuovo le penne è brutto però rispetto allo scorso anno dobbiamo comunque reagire perché poi lo scorso anno dopo aver perso qui a Francavilla non ci siamo ripresi mentalmente più dopo una lunga rincorsa però dobbiamo dobbiamo aggrapparci a quelle che sono i nostri principi dobbiamo aggrapparci alla forza del gruppo che è quella che ci ha finora fatto arrivare fino a questo punto non molliamo non dobbiamo mollare fino all'ultima giornata adesso domenica ci riposiamo e vediamo i risultati e le altre gufandoli naturalmente sperando in qualche risultato negativo e vediamo i risultati a Derice non c'è più pace ancora mascaramenti ricevuta da alcuni consiglieri una lettera anonima che contiene accuse sessiste nei confronti della consigliera Mannina e anche sul passato di Luigi Manuguerra Luigi Manuguerra è il caso di dire chi di lettera anonima ferisce e di lettera anonima perisce lei ha ricevuto assieme alla consigliera di Erice Simona Mannina una lettera anonima che gira in questi giorni su cui si raccontano vicende proprio nel caso della Mannina fra l'altro che ascolteremo dopo anche abbastanza poco simpatiche lei lei è stato accusato in passato ma poi prosciolto di essere stato un accusatore tramite lettere anonime oggi invece si trova al centro di accuse è un momento politico certamente difficile perché stiamo colpendo il malaffare a Derice vogliamo cambiare certamente le cose io stamattina mi sono regato alla Digos ho fatto la mia bella denuncia e chiaramente anch'io ho dei sospetti e li ho manifestati agli organi inquirenti su questi sospetti ci sono delle frasi che qualcuno ha usato in campagna elettorale e altri particolari riscontrabili credo che gli organi inquirenti in cui ho massima fiducia faranno il loro dovere così come è stato fatto nei miei confronti a suo tempo ok e quindi credo che lo faranno anche nei confronti di chi usa questi sistemi per destabilizzare gli avversari politicamente ed è strano che proprio io e la mia famiglia quindi mio figlio Alessandro che siamo stati fra i promotori fra quelli che hanno segnalato tante situazioni che non vanno nel comune di Erice siamo oggi attaccati quindi siamo pericolosi e siamo da fermare Consigliera accuse in questa missiva che vanno ben oltre quello che è il suo comportamento politico le sue posizioni ma vanno anche sul personale lei già stamattina è stata alla procura della Repubblica e ha denunciato il tutto Sì ho denunciato perché è arrivata questa lettera anonima da alcuni consiglieri in cui ripeto non venivano fatte delle accuse riguardo al mio comportamento politico o comunque a quello che sto facendo a Erice bensì erano delle accuse rivoltemi in quanto donna e per questo mi sono sentita più che altro offesa perché dal punto di vista politico possiamo dibattere quanto vogliamo anche non anonimamente preferirei però dal punto di vista dell'essere donna e dell'avere dei diritti in quanto tale penso che ciascuno di noi dovrebbe un attimino fare un passo indietro sostanzialmente quindi nessuna ha preso di posizione da parte del consigliere che come lei siedono al consiglio comunale assolutamente no ha ricevuto la lettera anonima dirizzata a me o comunque che riguardava me la consigliera De Dona capogruppo del PD la cosa che mi ha lasciato sconvolta è che non l'ha aperta subito perché arriva una busta anonima il consigliere Barracco la prima cosa che ha fatto è aprirla appena ha visto il contenuto l'ha subito girata a me dicendo che schifo io non ne voglio sapere nulla come giusto che sia la consigliera anche oggi che era in commissione con me non ha mostrato alcuna parola di solidarietà nei miei riguardi come non l'ha fatto la sindaca toscano purtroppo seconda edizione del nostro Tg parliamo ancora dell'uccisione di Nicoletta Indelicato la ragazza di 25 anni scomparsa a Marsala nella notte tra sabato e domenica scorsi i carabinieri hanno eseguito due fermi Nicoletta è morta l'hanno uccisa a coltellate dopo averla picchiata selvaggiamente poi hanno bruciato il cadavere che è stato rinvenuto ieri notte nelle campagne di Marsala la tragica fine di Nicoletta Indelicato 25 anni scomparsa nella notte tra sabato e domenica scorsi dopo il ritrovamento del corpo incontrato a Santo Nofrio i carabinieri hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla procura liribetana nei confronti di un uomo e di una donna amica della vittima dei sinatari del provvedimento Carmelo Bonetta di 34 anni maestro di balli caraibici e Margareta Buffa di 29 anni segretaria entrambi residenti a Marsala i due legati a quanto pare da una relazione sono accusati di omicidio e soppressione di cadavere è stato l'uomo messo alle strette dagli investigatori a confessare il delitto sabato Nicoletta era uscita con Margareta le telecamere di videosorveglianza di un noto locale marsalese le hanno riprese mentre erano insieme forse faccio tardi aveva detto la ragazza al telefono ai genitori prima di fare perdere le proprie tracce non vedendola rincasare intorno alle 4 i familiari hanno provato a chiamarla al telefonino che però era staccato allarmati domenica mattina hanno presentato denuncia di scomparsa Nicoletta probabilmente era già morta dopo averla uccisa i presunti assassini si sarebbero disfatti del corpo della 25enne occultandolo nelle campagne marsalesi da qui pertanto il reato di soppressione di cadavere ha loro contestato assieme all'omicidio il momento del delitto sarebbe riconducibile a futili motivi appartenente ad una famiglia per bene laureata in scienze della formazione e dell'educazione Nicoletta era impegnata in un corso di formazione professionale il padre Damiano Indelicato è un professore di matematica la madre Rita Angileri insegna all'istituto nautico di Trapani Nicoletta era stata adottata assieme al fratello Cristian di due anni più piccolo di lei quando aveva tre anni e mezzo Nicoletta e Cristian sono di origini rumene sabato sera la 25enne non voleva nemmeno uscire era già a letto quando è stata chiamata dalla sua amica una amicizia quella fra le due ragazze entrambe adottate contestata dai familiari della vittima che consideravano Margareta una persona poco raccomandabile Nicoletta però non aveva inteso che quel legame di amicizia era un legame pericoloso continuando a frequentare la ragazza ora in carcere assieme al suo complice che nel suo profilo facebook si definisce un uomo che ama i valori della famiglia secondo quanto ricostruito dai carabinieri Buffa dopo essersi intrattenuta con Indelicato in un locale marsalese si sarebbe recata in auto con l'amica in campagna giunti incontrata Santonofrio Bonetta che fino a quel momento era nascosto nel portabagagli avrebbe accoltellato la vittima e dopo aver rosparso il cadavere di benzina avrebbe appiccato il fuoco e dopo il ritrovamento del corpo di Nicoletta Indelicato rabbia e dolore sono i sentimenti che sono più forti a Marsala in questo momento una città sconvolta per un delitto efferato rabbia e dolore a Marsala dopo il ritrovamento del cadavere di Nicoletta Indelicato di 25 anni la speranza di riabbracciare la giovane scomparsa nella notte tra sabato e domenica scorsi si è infranta in contrada Santonofrio dove i carabinieri hanno rinvenuto il corpo senza vita sul quale verrà eseguita l'autopsia disposta dalla magistratura distrutti dal dolore i familiari della vittima assistiti dall'avvocato Giacomo Frazzitta si sono rinchiusi nel silenzio a parlare a nome della comunità Marsalese e il sindaco Alberto Di Girolamo sono senza parole come lo siamo tutti tutti speravamo in qualcosa di diverso insomma però è successo quello che non doveva succedere quindi io sono come tutta l'amministrazione con tutta la città vicino alla famiglia e credo in questo momento per essere vicino è quello di parlare di meno in silenzio assoluto perché sono cose che non dovrebbero assolutamente succedere ovunque in nessun caso ma immagino il dolore dei familiari in questo momento per la morte e per la morte in questo modo e quindi vicinanza e familiare è una città complessivamente sana ma chi si è macchiato di questo delitto va non solo condannato deve scontrare la pena per tantissimi anni forse non dovrebbero essere messe fuori dalla società civile grazie alle forze dell'ordine grazie alla magistratura per il lavoro che hanno fatto e per essere riusciti così rapidamente a individuare l'eventuale irresponsabile o sembra addirittura irresponsabile che mi sembra proprio da incredibile insomma proprio senza parola oggi ricorre il primo anniversario della morte del pompiere Giorgio Grammatico deceduto nel corso di un'esplosione a Catania Giorgio sarà ricordato in una messa che si terrà alle 17.30 presso la chiesa di San Giuseppe a Derice Casa Santa aggressione e diffamazione a due vigili urbani di Erice la Corte d'Appello di Palermo ribalta la sentenza di primo grado l'animalista Enrico Rizzi assolto da tutte le accuse i fatti risalgono a lontano 2013 quando l'animalista Enrico Rizzi chiese all'intervento della Polizia Municipale per un cane detenuto in pessime condizioni sul posto arrivò l'allora Vice Comandante Salvatore Pirro e l'Ispettore Carlo Oddo gli ufficiali di Polizia non condividevano il pensiero dell'animalista ed iniziò una forte discussione terminata con Enrico Rizzi al pronto soccorso ed una prognosi di oltre 20 giorni I due appartenenti al comando della Polizia Municipale denunciarono Rizzi per diversi reati che portarono a punto Enrico Rizzi in giudizio A luglio del 2017 lo stesso Tribunale di Trapani emise sentenza in danno dello stesso Rizzi condannandolo alla pena di mesi 8 di reclusione Ieri i giudici della stessa Corte hanno condiviso pienamente il ricorso dello stesso legale Rizzi è stato assolto da tutte le accuse in particolare relativamente ai reati di minacce e violenza pubblico ufficiale perché il fatto non sussiste